Le sbarre si erano abbassate da poco, forse pensava di farcela, di riuscire ad attraversare in pochi istanti il tratto di binario, ma il treno l'ha centrata. Tragedia questa mattina, poco prima delle 9 a Solesino, un'anziana del paese è stata travolta e uccisa da un treno italo mentre stava attraversando i binari in via Ceresara. Sul luogo della tragedia è arrivato anche il sindaco del comune della bassa padovana. La nostra concittadina, appunto la signora Anna Maria Polato, di 74 anni, ha attraversato il passaggio a livello, pur che era chiuso, probabilmente un po' in modo superficiale, non si è accorto dell'arrivo del treno ed è stata investita. Si presume stesse andando a trovare qualche amica. Il dolore dei figli che hanno dovuto riconoscere la madre accanto alla bicicletta distrutta al cellulare della 74enne che suonava a vuoto. Pare che Anna Maria Polato stesse andando a trovare un'amica per portarle degli ortaggi. Un tratto di strada noto alla signora che forse pensava di farcela da attraversare i binari nonostante il passaggio a livello fosse abbassato. Il sindaco, dopo questa tragedia, invita i suoi concittadini ad affrontare con attenzione tratti di strada pericolosi. Questo sia un monito al maggiore rispetto delle regole, sia relativo al passaggio a livello, nel momento è chiuso, bisogna fermarsi, ma anche regole del codice della strada. Invito tutti i nostri concittadini, per non dire tutte le persone, al maggiore rispetto delle regole per salvaguardare la propria vita, ma anche la vita altrui. L'investimento mortale di Solesino ha provocato disagio al traffico ferroviario con ritardi di due ore per l'alta percorrenza. Inoltre per alcune ore la circolazione ferroviaria è stata sospesa fra Sant'Elena e Rovigo.